Ecco fatto, manca Mulan 2. Sì sì, è giusto Mulan 2. Cominciamo subito. Veloce veloce lo stiamo recuperando sul mio canale. Il coraggio te lo dico io. L'onore lo dico io. Il trionfo, te lo dico io. Ora te lo faccio. Devo recu e la magia. E una nuova avventura. La costringeranno a scegliere tra il dovere e i sentimenti. Mulan 2 è un film Disney in uscita in Disney DVD e videocassetta. Adesso stacco.